Amici di Gira e Rigira, ma oggi soprattutto amiche, siamo insieme al grandissimo pattinatore Matteo Anesi! Pattinatore? Eh sì, pattinaggio a velocità su ghiaccio. Velocità? Sì, sì. E se ci fossimo noi davanti a una pista, cosa faresti? Ti prenderesti o ti resti lutto? Eh, dipende, mi sa che andrei più forte. Ah sì? Grazie. Dici che riusciresti a raggiungerci, ma anche se andassimo in bicicletta? Eh, la bicicletta, beh, sono un po' pesante io. Vogliamo vedere subito le tue cosce, perché dobbiamo testare questa forma fisica da pattinare. Potete testare? Beh, devo dire che la forma fisica ce l'ha, Matteo ce l'ha. Ma il punto forte sono i glutei, a dire la verità. Ah, beh, l'hai detto, a questo punto mi sa che l'hai detto, io farei che provare. E' questa, io mi giuro. Ma ha ragione, effettivamente ha ragione. Allora, di domani su ciclismo, il vincitore della maglia rosa? Eh, a Roio, ma no. Bravissimo. Vabbè, attuale. Il vincitore della maglia blu? Che maglia blu? Sì, la maglia blu. Se ne parla quest'anno dell'introduzione della maglia blu? Con lo giovane, con lo giovane. Eh no, mi faccio impreparato. Cosmas. Cosmas. Si chiama Cosmas. Vabbè, dai, questa gliela vogliamo. Lui va. Esatto. Vai invernogina. Facci un saluto come se stessi pattinando a tutti gli amici di Gira e di Gira. Eh, no, eh. Dov'è prima destra e poi sinistra? Eh, un saluto agli amici di Gira e di Gira. Ciao!